Buon appetito, buon ragazzi, qua qui sto, giù mi caldo, sono la storia e sono qui a presentare questo mio nuovo video e ragazzi questo qua è un video specialissimo, ma specialissimo per me, per me, perché ragazzi io sono tornato da scuola una quarantina di minuti fa poi cosa ho fatto? Ho mangiato ovviamente e poi ovviamente dopo aver mangiato si deve andare in bagno e ragazzi poi una volta fatto tutte queste cose, cosa ho fatto? Sono andato in camera mia, ho acceso il mio computer poi vabbè ho acceso la tv, adesso faccio un attimo vedere e ho detto ma andiamo sul mio canale youtube e ragazzi sono andato proprio sul mio canale ma la sorpresa è una magicata, qual è? Che non è che magari mi sono trovato 20.000 iscritti, 19.997, ma ragazzi per la prima volta, nel senso, prima volta vado su youtube, vado sul mio canale e ragazzi guardate un po' quanti ne ho trovate, adesso aspettate un secondo che prendo la webcam ragazzi e ragazzi c'è, è tremendo che io, adesso non so come si faccia come vedete, qua, se vedete, aspetta devo vedere se voi vedete, si c'è, è la prima cosa che ho fatto, non ho fatto altre navigazioni, non ho ricaricato quindi mi sembra proprio una cosa magica ragazzi, 20.000 iscritti io non so veramente come ringraziarli più, è che me le guido 20.000 a parte che non ho ancora deciso cosa fare, ma credo di fare il all the fuck you time intanto qui guardiamo che stanno facendo la fusione o mg ci stanno provando perché al primo tentativo non ci sono riusciti comunque aspettiamo in diretta perché lo vogliamo vedere e non gliel'è, non gliel'è riuscita neanche questa non sono capati, mamma mia e no, comunque che io volevo dire, terminando a parlare degli scriptids che o farò le un fuck you time oppure un video con il pallone però più d'altro un video con il pallone io ve lo farei anche come tutto il normale dato che non so veramente cosa fare, cosa far rivedere, non so dei diri poi ditemi un attimo se volete una sfida attraverso, archivetto attraverso con marcosil58, pubblicarmi 9 e omicchia guardi le cose così quindi ragazzi fatemelo veramente sapere ora non so se oggi caricherò un video ma questo qua già mi sembra un video magico che è una cosa di magico e io veramente ho cercato solo una volta sono andato su youtube nel mio canale e sono sfiniti nei scriptids magici e di poco, si vede magicissimi e quindi vogliono niente infatti dovremmo pensare anche la pizza però non è da nessuna parte comunque adesso aspettate un secondo vi metto la webcam come tecnicamente parlando dovremmo mettere perfetta mamma mia tanta roba e quindi ragazzi non so veramente cosa dire vi ringrazio, vi ringrazio e vi ringrazio ancora aspettatevi ovviamente sempre davanti i nuovi video perché la foglia ormai è troppo alta è un livello che è il super 9000 è un po' di Dragon Ball Style quindi ragazzi si dìvi ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio e se volete lasciate un bel ringrazio a questo video ma la cosa più importante qual'è? vi chiederei gentilmente di commentarlo commentandolo e commentarlo scrivendo cosa? scrivendo innanzitutto cosa preferite tra Fatty Time anzi no fate così gli ultimi si vanno bene i Fatty Time che le posso fare diciamo in un breve periodo magari che le faccio mercoledì dato che mercoledì ho avuto una tematica beh più di una volta fatto dato che non ho più da studiare sì vabbè qualcosa per venerdì però ho quasi tutto con le vince libri quindi potrei farvele già mercoledì farlo uscire quindi giovedì oppure il video col pallone anche se credo che mi debba prendere un po' di tempo quello magari vi faccio anche tutte e due comunque prima le Fatty Time con un altro quindi ragazzi mi raccomando scrivetelo nei commenti poi magari non lo so fate scrivetemi una bella frase oppure scrivetemi da quando vi siete iscritti al canale per vedere appunto iscritti diciamo un po' più attivi che mi seguono adesso da quando non è iscritto o meglio quando ci siete iscritti al mio canale quindi ragazzi questo qua è tutto e ragazzi veramente quindi detto che è schio vi saluto e vi dico potente a passi e nel prossimo video bolla ciao